Ad Amici Casting i professori si commuovono per la particolare esibizione di un aspirante cantante, Giordana Amici Casting, commozione per Giordana.Nella puntata di Amici Casting di martedì 13 novembre su Real Time, i professori di canto, Rudy Zerbi, Stash e Alex Britti, hanno continuato ad esaminare gli aspiranti cantanti Un gruppo era formato da tre ragazze tra cui spiccava la presenza di Giordana. La ragazza è apparsa da subito molto sicura di sé Rudy Zerbi ha provato a metterla in difficoltà, facendole cantare formidable di Stromae, dopodiché Giordana ha voluto fare un suo inedito per far capire qualcosa in più di lei La struggente interpretazione di quante volte ad aspettarti, ha commosso profondamente i professori Rudy Zerbi e Stash non sono riusciti a trattenere le lacrime ascoltando una canzone, che parlava della mancanza del padre Amici Casting verso la conclusione, inizia la fase pomeridiana.Giordana è stata una delle ultime cantanti ad affrontare il secondo e penultimo step Nella settimana dal 12 al 16 novembre, gli aspiranti cantanti e ballerini dovranno affrontare il terzo, ed ultimo step e sabato 17 novembre inizierà la fase pomeridiana di Amici Maria De Filippi tornerà, quindi, in onda il sabato su canale 5 alle 14 e 10.Amici 18. Le novità della nuova edizione Innanzitutto le principali novità del talent, sono stati i professori Quest'anno ci sono tre professori di canto, Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash, e tre professori di ballo, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Stephens Su Realtime il programma è condotto da Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia Mentre su canale 5 tornerà, nella fase pomeridiana e nella fase serale, Maria De Filippi, che porterà il talent alla prossima primavera per scoprire il vincitore di Amici 18 .